Eccoci online con un nuovo tutorial, stavolta su Deanlite, ecco come ottenere un'arma da fuoco sin dall'inizio del gioco, quindi anche dal livello 1. Innanzitutto dovete recarvi, qua c'è la mappa, dovete recarvi qui in basso, nei bassi fondi, dove sono io, ed entrare in questo edificio. Entriamo in questo edificio e vedete che c'è questo signore con la testa spappolata. Qui in basso troverete, come vedete, la pistola da 9 mm tedesca. La afferriamo e la possiamo subito equipaggiare. E come vedete, avete un'arma da fuoco sin da subito. Bene ragazzi, io vi ringrazio ancora per la visualizzazione, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Condividetelo, così fate sapere ai vostri amici questo trucco che aiuterà di molto a semplificare il gioco sin dall'inizio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!